La meravigliata del canta e balla che abbiamo appena messo Potete spegnere la radio, andate via Se lo comunicate così la prossima settimana lo riproponiamo ancora una volta Il canta e balla Il canta e balla, sì Ci possono fare anche le richieste su sms Magari mettiamo dei brani che se avete delle scelte, sì, fatelo pure Piaciscono alla gente Fate quello che canta e balla, io intanto devo andare via Ma è da tutto, vi lascio troppo forti nelle vostre mani Fabio va via, tu Filippo Sì, Antonio Procio! Procio! Per il procio di Antonio Dico, lui va via, lo mandiamo come se fa troppo forte No, 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 no Hai sbagliato, Filippo Visto che va via Ah, visto che va via? Va via, Fabio Vi affido a Filippo e a Antonio Fabio, dove vai? Vado via, non me lo posso dire Non lo puoi dire? Non solo noi? Eh Pubblicità Chi cambia frequenza È un proglodito Ciao Oh, no, 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 no